Salve a tutti benvenuti in questo nuovo tutorial di pasticceria oggi faremo vedere la preparazione di un classico pan di spagna universale per tutte le ricette di pasticceria un semplicissimo pan di spagna fatto con soltanto uova zucchero farina e lievito di pulvere andiamo a vedere la preparazione ingredienti che ci occorreranno per il pan di spagna saranno tre uova medie 75 grammi di zucchero con un pizzico di sale sempre lo zucchero e 80 grammi di farina 00 e mezzo cucchiaino di lievito in pulvere cominciamo con mettere le uova in planetaria con la frusta ovviamente il sale e lo zucchero e facciamo montare a massima velocità ecco aumentiamo e l'aspettiamo e Grazie a tutti. 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 A questo punto andiamo ad infarnare a 180 gradi per 15 minuti. Il nostro pan di spagna come vedete è morbidissimo. Grazie a tutti.